Ovviamente tutti gli anni c'è il tormentone abete sintetico, abete naturale, insomma immagino che un abete naturale dia anche un profumo diverso alla casa. Io sono per l'albero di Natale vero, no ma al di là di quello sì, albero di Natale vero, cioè le piante di albero di Natale hanno salvato le aziende diciamo nelle parti di montagna, dell'Alto Casentino dagli anni 60 diciamo hanno dato reddito a delle famiglie. Gli abeti del Casentino stanno per entrare nelle case degli italiani per le festività imminenti, diverse le dimensioni e le varietà che dal 1960 sono coltivate in provincia di Arezzo ed esattamente nei comuni di Montemignaio e Castel San Niccolò, Alto Casentino. Bucano un pochino però è una cosa che si fa volentieri, una volta l'anno però sì, albero di Natale vero. Una coltivazione importante non solo per la qualità dell'aria che garantisce ma soprattutto per aver rappresentato una fonte di reddito per tante famiglie e ancora oggi lo è. L'abete è anche un elemento di riduzione del rischio idrogeologico per le zone in cui queste coltivazioni sono portate avanti. L'apparato radicale è grande, quindi è un albero, essendo una pianta favorisce anche che non ci sia il dissestro idrogeologico nelle nostre parti collinari. Insomma aiuta anche per questo. Sì esatto, ha aiutato veramente tanto anche a mantenere il terreno. Pochi ma importanti gli accorgimenti per chi sceglie di addobbare la propria abitazione con un abete vero. Innanzitutto rispetto alla data di acquisto portarlo in abitazione soltanto quando si decide di addobbarlo altrimenti lasciarlo fuori all'aria aperta. Va annaffiato una massimo due volte a settimana oppure si può mettere del ghiaccio sulle radici in modo che l'acqua filtri lentamente. Lasciarlo categoricamente lontano dalle fonti di calore e una volta terminate le festività natalizie possiamo piantare il nostro alberello nel giardino nel caso in cui ovviamente ne possediamo uno oppure sul terrazzo. Oppure se lo vogliamo smaltire il punto di riferimento è l'area apposita destinata al verde di ogni comune.